Come faccio a superare una paura dei gatti? La paura dei gatti, o eluropobia, è una paura comune che impedisce di stare vicino ai gatti senza provare panico, paura, rabbia o altri tipi di stress. Un trauma infantile può essere all'origine della paura dei gatti, oppure qualcuno potrebbe semplicemente avere una reazione avversa alla natura e alle abitudini dei gatti. Come ogni altra fobia, la paura dei gatti non può essere risolta senza prima scoprire la radice della paura. Da lì, potresti essere in grado di trattare la fobia trattando ciò che ha causato la paura, combinando questo approccio con l'esposizione progressiva ai gatti e le informazioni sui gatti possono aiutare ad alleviare la paura. Una delle cause più comuni della paura dei gatti è la paura del dolore causato dai gatti. Mentre la maggior parte dei gatti è abbastanza docile, alcuni gatti sono inclini a mordere o artigliare, il che può essere doloroso se diretto verso l'uomo. Capire perché i gatti artigliano o mordono può aiutare ad alleviare quella paura. A volte i gatti estendono i loro artigli quando si sentono contenti. Affondare i loro artigli in materiali e oggetti può effettivamente essere un segno di contentezza, quindi se un gatto estende i suoi artigli nei tuoi vestiti o nella tua pelle, potrebbe effettivamente essere un segno che il gatto ama te o si sente a tuo agio con te. Anche se questo non allevia il dolore in alcun modo, può aiutarti a capire che il gatto non è malizioso, e una paura dei gatti potrebbe non essere necessariamente giustificata. La cultura pop o l'influenza degli altri possono anche causare la paura dei gatti. I gatti sono talvolta retratti come messaggeri del male nei film, nella televisione e nei libri, e molti malati di aileuropobia portano la paura di tali immagini della cultura pop. In questo caso, sono disponibili almeno due opzioni per superare la paura dei gatti, uno è quello di ricercare la storia dei gatti e capire i loro comportamenti e la natura simbolica, e l'altro è quello di cercare una terapia professionale. Un terapeuta può essere in grado di aiutarti a risolvere le cause della tua paura e fornire strategie per essere funzionale attorno ai gatti. La maggior parte delle persone che soffrono di aileuropobia possono superare le proprie paure esponendosi lentamente ai gatti e ai soggetti affini ai gatti. Forse visitare il negozio di animali per vedere i gatti da un punto di osservazione protetto aiuterà il malato ad abituarsi ad essere vicino a loro. Una volta che ti senti a tuo agio nel vedere i gatti, potrebbe essere il momento di andare a casa di un amico per vedere il suo gatto. Chiedi all'amico di tenere il gatto in modo da poterlo vedere da lontano. Fallo diverse volte finché non ti senti a tuo agio nella stessa stanza con il gatto. Quindi, forse è tempo di provare a toccare il gatto. Accettalo mentre un amico lo tiene, per esempio. Questa lenta progressione può aiutarti a diventare più abituato ai gatti, e anche se non puoi diventare un amante dei gatti, almeno diventerai funzionale attorno a loro.